la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovate alla rassegna stampa di Uno TV andiamo a sfogliare insieme le pagine dei quotidiani in Edicola questa mattina e partiamo dalla città Crescent Salerno perde 6 milioni la Cassazione dà ragione ai costruttori niente oneri per il comune questa l'apertura sotto la testata noi sospesi fra terrore e rimorsi decine e decine di morti sospette come una bomba silenziosa i racconti strazianti dopo le denunce e la procura acquisisce tutte le cartelle cliniche centropagina la fotonotizia lutto nel teatro da Edoardo alla fiction una carriera immensa l'addio a regina senatore sovrana del palcoscenico ancora centropagina tenta di violentare un 14enne arrestato 42enne le molestie sugli scogli di piazza della Concordia l'articolo di spalla caso Lanciano gli abruzzesi rischiano il processo bis gli articoli di fondo verso il voto con la nuova legge le unioni civili non tutti i candidati sono convinti battipaglia ora Pietro Ciotti chiede al TAR di salvargli una lista e di taglio basso se il caro estinto finisce sul carro abusivo questa è la prima pagina della città lo scontro sui diritti i teocon sulle unioni civili Mattarella non firmi si prepara la campagna per il referendum la Lega i sindaci disobbediscano Renzi rispetto per tutti ma ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo e poi le tre storie quella foto pubblicata sul New York Times il nostro amore ora esiste la seconda storia Giuseppe e Stefano insistono noi siamo già una famiglia e la terza storia le nozze in Danimarca per non doverci separare ancora unioni civili sì alle unioni civili non tutti i candidati pronti a celebrare totalmente contrari Raffaella Di Nolfi e Marco Falvella Roberto Celano e Antonio Iannone sceglieranno di delegare quindi gli aspiranti alla poltrona di sindaco chiamati a decidere spetterà a uno di loro applicare la nuova legge politica e giustizie nomine sospette Pizzarotti indagato Parma il sindaco del Movimento 5 Stelle sotto inchiesta per abuso d'ufficio ombre sulla scelta del nuovo direttore del Teatro Reggio e quindi da Livorno a Quarto i guai dei 5 Stelle fondazione rifiuti Rosa Capozzo costretta a dimettersi per Grillo due condanni in un anno L'attualità l'apertura del Papa il Papa apre alle donne diaconato da studiare l'annuncio di Papa di Francesco durante l'incontro con 900 superiore generali commissione sul loro ruolo nella chiesa primitiva è una possibilità per oggi nel 1994 con la lettera ordinatio sacerdotalis Giovanni Paolo II aveva negato categoricamente la possibilità di sacerdozio femminile nella chiesa cattolica 22 anni dopo Papa Francesco apre alle donne annunciando l'istituzione di una commissione di studio sul diaconato femminile nella chiesa primitiva sottolineando che le donne diacono sono una possibilità per oggi questa è l'apertura di Papa Francesco Passiamo a Battipaglia Cantieri del più Europa ora tocca agli investitori un progetto da 12 milioni per il centro integrato di interscampio alla stazione previsti un terminal bus parcheggio multipiano e una galleria commerciale la tragedia di Rocca d'Aspide ferito a morte dal suo trattore ieri l'addio al pensionato e poi sempre Battipaglia servizi illuminazione pubblica lampade a led in tutta la città il caso stranieri traffico e rifiuti emergenza nel centro storico i cittadini chiedono a Cariello e all'assessore Ginetti interventi concreti scoperti mini appartamenti usati da immigrati per ottenere la residenza Santa Cecilia minaccia i vigili con il coltello preso giovane il marocchino discarica in una cava si indaga a carcarone carcasse di auto frigoriferi e lastre di ethernet nascoste tra gli oliveti cede piastra d'acciaio sulla provinciale 45 e Agropoli va in tilt la circolazione stradale bloccata per ore cilento isolato operai al lavoro per ovviare al problema disagi e proteste Capaccio insospettabile bloccato con le armi e la droga sempre Capaccio stadio la legge cancella l'appalto nuovo bando per l'impianto che dovrebbe ospitare anche le cupole e Giuseppe Clochard con dignità la storia del 52enne trovato morto alle fornaci l'addio alla famiglia e l'alcol Sapri scandalo in ospedale nuovo dossier in procura la finanza chiude il cerchio su altri reparti e invia un'informativa ai magistrati il capo dei PM russo indagine complessa e delicata nel mirino l'intramenia Centola recuperata dopo otto anni l'auto travolta da un masso e Stio morte a Berlino il giallo si infittisce rinviata l'autopsia sul corpo senza vita del 31enne di Stio interrogati gli amici buon abitacolo monumento abusivo nei guai ex sindaco e assessori e infine vallo a ballo vigili ecosostenibili le pattuglie inforcano le bici queste le pagine della città continuiamo con Metropolis preso l'orco del pennello il giovane è riuscito a fuggire ha raccontato tutto ai genitori 42enne arrestato dalla polizia ha tentato di violentare un ragazzino di 14 anni sugli scogli del molo masuccio di taglio alto serie B pasticcio lanciano i play out a rischio sempre serie B il papà di rastelli sfida la salernitana centropagina addio alla senatore Salerno ha perso la regina del teatro e il suo sguardo non ci lascerà ancora centropagina Salerno caso fonderie morti sospette cartelle acquisite eboli manetti e litorani il protettore delle prostitute e ancora Salerno ultimo sì per il crescendo via libera definitivo dalla cassazione e poi verso le amministrative le unioni civili dividono i sindaci e la caccia al voto diventa low cost di taglio basso battipaglia ricorso ciotti oggi al tar la decisione questa la prima pagina concentriamoci sulle amministrative campagna low cost Salerno si scopre sobria rari i supermanifesti pochi eccessi nella comunicazione dei candidati Napoli inaugura la diretta online della sua agenda e poi la polemica a Napoli bufera sul paperone Gianni Lettieri il sindaco De Magistris attacca l'avversario serve l'antidoping l'industriale replica a te l'antidiciclaggio e poi le unioni civili dividono i sindaci i pareri dei dieci candidati sulla nuova legge e duro ad inolfi non celebrerò matrimoni omosessuali Ponte Cagnano al consorzio aeroporto fumata grigia per prete rinviata l'elezione del presidente e del nuovo consiglio d'amministrazione battipaglia ossetricia sospendere il nuovo piano Agropoli rinvenuto senza vita alla fornace battipaglia candidatura 18 decide il tar dopo l'esclusione e il ricorso oggi l'udienza davanti ai giudici amministrativi i vizi rilevati sono di carattere formale e non hanno a che vedere con gli atti Rocca d'aspide trovato morto dalla moglie sul divano Ponte Cagnano mare sporco divieto di balneazione Diano Montepruno il nuovo CdA Ebbo Libanette al protettore di prostitute il 46enne che ha minacciato due vigili urbani è stato arrestato dai carabinieri a Campolongo Caselle abusi a scuola genitori ammessi come parte civile e infine Capaccio droga e pallottole nei guai incensurato queste le pagine di Metropolis con cui si conclude la prima parte della nostra rassegna stampa diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio andiamo avanti con la seconda parte della nostra rassegna stampa e proseguiamo con le cronache è morta la regina viva la regina il premio chiuso il San Genesio la grande attrice salernitana aveva 76 anni ha lavorato con Gasman e De Filippo i funerali oggi alle 11.30 nella chiesa della Santissima Annunziata il ricordo di amici e colleghi l'ipocrisia del mondo politico centro pagina Luca Gentile al PM ecco la verità il giovane accusato dell'omicidio di De Marco ha chiesto di parlare pronta la nuova versione Salerno arrestato l'algerino pedofilo e ancora Salerno fonderie ultimatum del sindaco Napoli crescendo Cassazione no al sequestro il primo cittadino firma l'ordinanza gli scarichi creano problemi al mare e alle zone balneari torre annunziato omicidio scarpe il mandante fu Pasquale Occhiatto Castellammare Melissi un passo indietro per vincere Battipaglia Mara e Salvini arrivano i big e confesercenti il commissario Giglio ammette criticità nei conti questa è la prima pagina di Le Cronache andiamo a Battipaglia inverso boccia senza riserve il patto per la campania tour di Ugo Tozzi di Fratelli d'Italia nei quartieri di Battipaglia Monte Corvino Rovella pauroso incidente stradale a macchia danni a un furgone e a un'auto ed in centropagina elezioni a Battipaglia ora arrivano i big domani sarà in città Maracarfagna per la francese il 17 maggio Salvini per sostenere Marchetta e per la resa dei conti nel partito Ciotti chiarisce la propria posizione in attesa della sentenza del Tar i valori di alcuni candidati delle liste di Lanaro iniziative a Giffoni domani aprono due asili e la biblioteca comunale domenica 15 maggio passeggiata della salute amministrative a Battipaglia i cittadini chiedono ai candidati più attenzione sui problemi del traffico i residenti chiedono la realizzazione di un sottopasso dalla zona industriale al centro e di un nuovo ponte sul Tusciano minaccia minaccia col coltello i vigili preso Pappone Marocchino si dichiara protettore ma i vigili lo ammanettano in collaborazione con i carabinieri coltello in pugno minaccia due brigadiere e poi si scopre che aveva il divieto di dimorare a Eboli un normale servizio di controllo rivela un episodio inquietante un pregiudicato nordafricano minaccia i poliziotti locali con un coltello ancora Eboli convocata seduta monotematica sulla sicurezza e a scuola con le cronache al liceo scientifico il percorso formativo alternanza scuola lavoro la scuola ebolitana ha adottato il progetto avviato dal nostro giornale Castellabate i parenti dei pescatori scomparsi lanciano un SOS attraverso la RAI i familiari di Antonio Villacitro e Rosario Brancaccio insospettiti dal luogo del ritrovamento Cilento bandiera blu Bene Pestum polemiche a Sapri assegnati quindi riconoscimenti annuali per il mare e le spiagge il riconoscimento per Capaccio ritirato dal sindaco Voza l'esclusione suscita troppe perplessità nella città della Spigolatrice soddisfatti gli amministratori comunali capacesi dopo lo scoramento da Sapri reagiscono e dicono presto ci rifaremo alla grande Buon Abitacolo statua di Massimo Casalnuovo in quattro accusati di abusivismo Agropoli trovato cadavere 52enne in strada e Capaccio spaccio armi e munizioni arrestato pusher 24enne operazione effettuata dagli agenti del commissariato di Battipaglia queste le pagine di Le Cronache passiamo alla nuova il filo rosso tra Elisa e il caso Orlandi questa è l'apertura chi l'ha visto svela una telefonata del 2012 tra l'ex rettore di Santa Polinare e l'ex vescovo di Potenza Don Vergari chiese consigli ad Appignanesi su come comportarsi davanti agli inquirenti una strategia processuale Centropagina Banzi abusi sessuali sulla sorella e la cugina condannato a tre anni e due mesi un 22enne Forenza nessun sigillo alla struttura il proprietario delle masserie De Falco siamo operativi sempre Centropagina auspico soluzione non lontanissima l'amministratore delegato Eni Descalzi ritorna sul blocco delle estrazioni in Val d'Agri Taranto non chiusa per senso di responsabilità e Pittella chiede un tavolo al Mise ancora centropagina l'Anesap attacca l'assessore alla sanità tanto silenzio la Franconi si occupi delle emergenze e poi Interinali la CGL attacca FCA indotto pagati meno e sotto inquadrati e Matteo Salvini Matera non può essere così bella e così isolata Salvini nella città dei Sassi attacca i Pittella qui se non sei nella loro cerchia non fai nulla con la riforma di Renzi tutto nelle mani dello Stato di taglio basso lo sport le montagne saltano Pozzo Vivo Giro d'Italia Roccaraso il Lucano è Sesto adesso insidia la Top Ten e Lega Pro dopo l'addio di Mister Padalino il Matera vede partire anche il DS Fernandez già prove impegnative con Patron Columella questa era la prima pagina di La Nuova con cui si chiude la nostra rassegna stampa vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Uno TV con il telegiornale delle 13.45 vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro buona giornata Grazie a tutti